ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi parlerò di Dragon Ball Super Card Game Vi parlerò dei due mazzi che sono usciti in Italia Che sono Shenron Advent, il numero 7 precisamente E il numero 6 che è Resurrected Fusion E li possiamo vedere appunto qui Ora, non si capisce bene per quale motivo in Italia siamo partiti da questi due starter deck Questi sì, sono degli starter deck completi Quindi includono 50 carte e una carta leader Inoltre, gli starter deck includono, come potete leggere qui 5 carte esclusive del mazzo introduttivo Nel senso che non si trovano nelle bustine, diciamo, quelle singole Dove ci sono 12 carte Quindi ci sono 5 carte esclusive sia per uno che per l'altro mazzo Allora, io deciderò di cominciare dal mazzo di Shenron Comincerò a fare l'unboxing di questo mazzo Shenron Advent Come possiamo vedere, dietro ci sono scritte le carte che compongono il mazzo Il contenuto, un tappetino da gioco Il mazzo di carte e il regolamento Qua vi dice anche i tipi di carte e la quantità delle carte Le varie copie che ci sono nelle varie carte Allora, un attimo che adesso arriva la parte Quella più particolarmente importante Perché non devo fare danni Ecco Non devo fare danni Possibilmente Ovviamente devono metterci sempre Guarda, guarda la colla Guarda come si stacca qui Ecco Abbiamo in qualche maniera aperto il mazzo Perché queste io poi me le devo conservare Che sono bellissime queste Come si può dire Queste scatolette qui Non so per quale motivo Vedo che mi è stata regalata una carta in più Strana sta cosa Ma scusate, questa è una sorpresa Questa non me l'aspettavo proprio Allora, un attimo che Qui Come potete vedere Ci sta il regolamento E questo è sempre lo stesso Penso regolamento Sì Il regolamento È sempre lo stesso Anche se la carta con cui è fatta Non so perché Mi sembra più pesante Quindi qua Vedete il regolamento Poi non so per quale motivo Dentro ho trovato questa carta di C17 Hellfighter 17 Creature dell'inferno Non vi so spiegare perché Ma questa dovrebbe essere Una carta Ma qua non c'era scritto Che era incluso No Non ci stava scritto Boh stranamente Comunque Questa è una carta Dell'espansione Che Praticamente è uscita assieme A questi due mazzi Che in Italia È anche uscita Sono usciti anche Come si dice Le bustine Quelle Da Qua in Dando non si apre Le bustine Quelle da 4 euro La puttana Della busta di merda Che non si vuole aprire Oh ragazzi Vi giuro Oh Vaffanculo Oh Perfetto Bellissima comunque Questa carta Notiamo Tutta bella Colorata Ragazzi Dove sta il La telecamera è qui Ecco Vedete un po' Hellfighter 17 Creature dell'inferno Con doppio attacco Bene Ebbè pure Eppure buona Questa carta Bene Mettiamola qui Chissà che carta Troverò invece Nell'altro cosa Allora a sto punto Mi devo aspettare Anche lì Una carta Vediamo che qui c'è L'area di combattimento Questa ragazzi È personalizzata In base al mazzo Che prendete Io siccome questo È il mazzo Di shenron Qui praticamente È uguale Al tappetino Che avete già visto Di shenron Tra l'altro C'è pure tagoma Vedo qui Nel Che sarebbe il maiale Quindi È uguale A quello che avete già visto Un attimo Che adesso passiamo Alle cose serie Passiamo a vedere Il mazzo in sé Adesso lo tiriamo fuori Se vuole uscire Perché non è Da quello che ho capito Questi figli Di figli di putanas Fanno le cose Per rompere i cogliones Ecco Perché Non è possibile Che uno Deve Cioè Qua ci sta qualcosa Che non mi permette Di prendere il mazzo Perché Non è facile È un po' A voler proprio Eh Rompe i coglioni Non vuole uscire Bene Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ad aprirlo Ecco qua Il mazzo E guardate un po' Mamma mia Bellissimo Questa Questo effetto Che fa Non so La busta Con Guardate un po' Sharon Eccolo qui E sarà il nostro leader Questo è il lato In cui è stato evocato Quindi diciamo Il lato che si gira Del leader Il lato Come l'awaken No Il risveglio Che fanno Tutte le altre carte Invece Sharon Fa Brama Apriamo Il mazzo Madò Che emozione Allora Prima carta Sharon Apparizione Miracolosa Vediamo anche L'altro lato Dove stanno Le sfere del drago Colore della carta È Nero Poi abbiamo Sharon Figura maestosa Tipo di carta Combattimento Eccola qua Ecco qui la carta Poi abbiamo Son Goku Guerriero Dimensionale Tipo di carta Nero Poi abbiamo Ben Ah ce ne abbiamo un altro Di Son Goku Guerriero Dimensionale Poi abbiamo Due Almeno qua Non so per quale In che ordine Sono stati messi Vegeta Reduce Dall'oscurità Possiamolo vedere qui Questo praticamente Ragazzi Voi vi state chiedendo Ma sono personaggi Di Dragon Ball Heroes Se non mi ricordo male Perché questo è praticamente Il Vegeta Quello che in Dragon Ball Heroes Ha la maschera Malvagia Diciamo così Qua vediamo un altro Sharon Figura maestosa È uguale a quello di prima No? Mi sembra Ah no Ragazzi vedete un po' Quello Sharon Figura maestosa Non è come questo Perché questo È di una rarità Inferiore Praticamente Non ha già Quell'effetto bello Sopra Poi abbiamo Tante carte di Goku Adi la verità Abbiamo due Son Goku Mega Focus Son Goku Mega Focus Sembra una Una specie di Come si dice Scioglilingua Abbiamo poi Son Goku Senza effetto Quindi Goku Bambino Anche qui Senza effetto Noterete che Questo mazzo È molto particolare Perché avete visto Che adesso iniziano a stare Anche le carte Di colore rosso Come per esempio Questi Goku Bambino Quindi già si capisce Che è tutto fondato Su il colore nero E il colore rosso Infatti qua troviamo Yamco Chiamato Yamcha Dalla traduzione originale Ne abbiamo due Poi abbiamo Due Puar Il miglior amico Che sarebbe l'amico Di Yanco Quello che si trasforma Ne abbiamo due Poi abbiamo Ecco qua Il porcone Quattro Olong Il calcolatore Olong Il calcolatore Ora ragazzi Non vi so dire Quali fra queste carte Che abbiamo visto Sono le esclusive Del mazzo Penso che sia Uno Sherron E probabilmente Penso I Goku Dimensionali I Vegeta Dimensionali Dovrebbero essere Dice Cinque carte Esclusive Del mazzo Credo che siano Quelle Poi abbiamo Desiderio Di Olong Che non è È diverso dal Desiderio Dell'imperatore La risurrezione Dell'imperatore Vedete anche se Assomiglia La carta E ne abbiamo Quattro Poi abbiamo Questa è bellissima Mi piace un casino Già anche nel gioco Di Dockham Battle Mi piace Bulma Cercatrice Delle Dragon Ball Vedete un po' Che bel vestito Che c'ha Questo secondo me Era Non mi ricordo Di che saga Saga Sta scritto Saga di Pilaf Però vedete un po' Che bella questa Bulma E ce ne sono quattro Ritorniamo di nuovo Col col colore nero Questa volta Poi abbiamo Quattro Carte di Kami Unificatore globale Eccolo qui Ne abbiamo quattro Quindi del Supremo Se vogliamo Chiamarlo Come lo chiamano in Italia Poi abbiamo Sto notando che abbiamo I guerrieri del tempo Praticamente Quelli della saga Di Dragon Ball Heroes Trunks Trunks Soccorso temporale Questo sta anche In Xenoverse E ne abbiamo Quattro Colore nero Oh Poi questo è carino Questa è una carta extra Non è un combattente E' esplosione di forza Dove vediamo Il maestro Mutanda Il maestro Muten Che deve stare Muten Il genio Praticamente Ne abbiamo quattro E poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sfere del Drago Queste sono sempre uguali Sono sempre Ecco sempre così la carta E massimo 7 Se ne possono avere Perché questa è un'eccezione E poi abbiamo Quattro carte extra Pace mondiale Qua si vede Il Jackie Chan Che poi sarebbe Il maestro Muten E Krill Che si risvegliano Da tipo delle tombe Non mi ricordo Questa scena In questo momento Bene E quindi Io credo ragazzi Che comunque Le carte Quelle Le 5 carte Siano in realtà Anche se non ho ancora capito Dovrebbero essere Goku Vegeta Ma questo tanto si può vedere Tra l'altro ragazzi Sul Sul sito Sul sito Voi potete vedere Quali sono le carte esclusive Di Per ogni mazzo Per capire Insomma Se vi conviene anche Prendere il mazzo Perché in realtà Si possono fare anche Con le carte Che trovate Nei pacchetti Vediamo se sta scritto Qualche cosa qui Dovrebbero essere Quali sono le carte esclusive E soprattutto Contiene Alcune carte Più copie Non si assuma No vabbè Qui non c'è scritto Ma comunque Sono sicuro Che siano Sharon Goku E Vegeta Questi qui Sono sicuramente Carte Ah ecco Queste i 5 sono Sono Sharon Goku Vegeta Poi Sharon Figura maestosa Con quella figura E con quella rarità E poi son Goku Megafocus Che vi ho fatto vedere Prima E l'altra esclusiva Quindi sono queste i 5 Adesso Questo mazzo È più normale Rispetto a quello Del Drago Sharon Perché il mazzo Sharon Advent Le carte Sharon Non possono attaccare Cioè nel senso Le carte del Drago Sharon Non possono attaccare Quindi il gameplay È un po' diverso Ora aspettate mezz'ora Il tempo che io Apro il mazzo E mi faccio il mazzo Per aprire il mazzo Quindi un attimo Anche perché io C'è Io ho qua Due sulle cose O lo apro da sopra O lo apro da sotto Perché qua Cioè questa è la mia È la tristezza Che non voglio rompere le scatole In tutti i sensi Allora adesso Proviamo ad aprire da sotto Vediamo se va meglio da sotto Che forse Era l'accusa normale da fare Sì era da sotto Che in figura di merda L'abbiamo fatto ormai Grandi ragazzi Allora Apriamo Qua troviamo il mazzo L'aria Questa è diversa Vedete Già si intravede Uuuu 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 Che carta ho trovato Che carta ho trovato Non ci posso credere Ho trovato Non so se è fatta apposta Sta cosa Ma io lo volevo Ho trovato Guardate un po' La carta leader Di Janemba Versione obesa Versione figa Versione obesa E versione figa Questa è la carta leader Io la volevo E guarda a caso L'hanno messa Non so se è un culo Che l'ho trovata Nel Nel mazzo Ma sono contento Ma sono contento di averlo trovato Invece C17 Non so che cavolo Centri Ma fighissimo Ragazzi Questa era Una carta che volevo Da tutta una vita Cioè io la volevo Sto leader Tra l'altro è un leader blu Quindi penso che vada pure bene Con il mazzo Cioè ma Guardate la figaggine Guardate la figaggine Non so se si vede la figaggine Di questa carta Più che altro io che ce l'ho in mano Vedo tutte le L'effetto cristallino Sopra Perché questa è anche la cosa bella Di queste carte Ok Poi abbiamo anche qui Il regolamento Che è sempre uguale Il regolamento Degli sciuoco E abbiamo Cos'altro L'area di combattimento Che qua possiamo vedere Quindi è bello che ho trovato Tutti i due personaggi Principali della saga Del film Praticamente Guardate un po' che bella Non so se si vede Quest'area di combattimento Perché qua È un po' difficile Farvela vedere Un po' difficile Qua si vedono Goku E Vegeta Che fanno la fusione Un attimo Che Fanno la fusione E diventano Gogeta Qua Ecco Si vede Goku E di qua si vede Vegeta Che si fondano E fanno Gogeta Questa è l'area Di combattimento Di questo Mazzo E poi vediamo adesso Il mazzo Apriamo il mazzo Mamma mia ragazzi Cioè io sto vedendo Cioè guardate Guardate un po' Voi forse non lo vedete Ma come si illumina Sta carta Voi non avete idea Io non ho mai visto Carte fatte così bene Veramente Bene Questa è la cosa Bella del gioco Ci sono Degli esperti Io non sono esperto Che valutano Qualsiasi gioco di carte Collezionabili Dalla tonalità Dei colori E dagli effetti Che vengono applicati Sopra Le carte E praticamente Hanno detto Che queste carte Se noi consideriamo La giocabilità Cos'altro Giocabilità Poi Il tipo di carta Il tipo di cartoncino Con cui sono fatte E se consideriamo Anche il livello Di design Insomma in poche parole Di Dragon Ball Queste sono le migliori Perché ne stanno diversi Di giochi di Dragon Ball Con le carte Ma questo è il primo Gioco di carte Collezionabili Serio Che ne staranno Migliaia Già di carte Voi non lo sapete Ma in Inghilterra In Giappone Ne stanno migliaia Di queste carte Ne sono uscite tantissime Delle varie saga Allora Vi faccio vedere Questa è Gogeta Dal lato dove Non è trasformato E questo Gogeta Colpo finale Dal lato Dove invece È trasformato E ne abbiamo uno Poi abbiamo Carta del mazzo Gogeta Fusione Suprema Questa è un'esclusiva Del mazzo Gogeta Fusione Suprema E questo lo sapevamo già Poi abbiamo Carta del mazzo Sempre Credo Vediamo se sta scritto così Vegeta Redivivo della fusione Sondoku Redivivo della fusione E qua li vediamo Mentre stanno nella posa Per La fusione La fusion dance Ecco qua Goku Di queste ne abbiamo Due copie Poi abbiamo Un'altra copia Non Di rarità Cioè Non con l'effetto Gogeta Fusione Suprema Eccolo qui Lo mettiamo qui Poi abbiamo Due Great Saiyaman Questi dovrebbero essere i personaggi Comunque Di quella Di quel film Praticamente Tutti quelli che si vedono In quel film Ne abbiamo due copie Di Great Saiyaman Poi abbiamo Quattro copie Di Goku Normale Pronto all'attacco Si chiama così Goku pronto all'attacco Ne abbiamo Quattro copie Da notare Tutto colore blu Finora Ma penso che sarà tutto blu Il mazzo Poi abbiamo Son Goku Goku Super Saiyan Insomma Vedete qui Per capire che è del mazzo Di 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 Janemba C'è pure scritto poi tra l'altro Saga di Janemba Eccolo qui E ce ne abbiamo Quattro copie Costo basso Queste carte qui Poi abbiamo Un altro tipo di Great Saiyaman Eroe cittadino Che è questo Poi Abbiamo Quattro Goten Si chiama Raffica Di Ki Di Aura Praticamente Vedete qui Poi Abbiamo La stessa cosa Per Goku Vedete Vegeta Super Saiyan Con dietro Il La figura Di Gogeta Vedete Qui Queste carte Non sono messe a caso C'è sono Sta una specifica strategia Da dietro Poi da studiarsi Poi abbiamo Trunks Raffica Di Ki Come avevamo Goten Abbiamo anche Trunks Vedete qua Raffica Di Ki Poi abbiamo Quattro Veku Il Il Riltante Vediamo qua Veku La fusione Sbagliata Il Goku E Vegeta La versione Obesa Ne abbiamo Quattro Tutto blu Devo dire Questo mazzo È più Uniforme Ed è anche Più normale Poi abbiamo Quattro carte Di Gotenks Super Prontezza Vediamo qua Gotenks Super Prontezza Quattro Carte Poi abbiamo Due carte Rayhammer Supervisore Dell'anima È una carta Combattimento Tra altre cose Anche se Lui non ha mai Combattuto in vita Sua Poi Ci sta Da quello che Sappiamo Poi abbiamo Magia dimensionale È una carta Extra Ne stanno Quattro Poi bisogna Vedere bene Questo Mazzo Come si può Lavorare Su Janembo Se va modificato E poi abbiamo Quattro Punitore Dell'anima Una carta Extra Bene ragazzi Allora vi ho fatto vedere I contenuti Dei mazzi Ho fatto una rima Del cazzi Ebbene Io spero che questo video Vi sia piaciuto E ci rivediamo Ad un prossimo Video